Ciao ragazzi, oggi apriamo il Monster Fast Crash Iniziamo a capire da dove si apre qua Guardate ragazzi il primo, il primo Fast Crash Apriamo un altro Colore viola abbiamo trovato Abbiamo trovato un chileno viola ragazzi Abbiamo trovato un'altra Ok, una roccia Abbiamo trovato un'altra Abbiamo trovato un'altra Abbiamo trovato un'altra verde Abbiamo trovato un'altra Ragazzi abbiamo trovato un'altra Ragazzi abbiamo trovato un azzurro Una rocissima Che bella che è veloce Che bella Un pano E abbiamo trovato un altro ragazzi Uno, due, tre Abbiamo trovato un'altra blu ragazzi Ragazzi ne abbiamo Uno, due, tre, quattro, cinque, cinque, sei Se le macchine ne abbiamo ragazzi Prende tutto in testa Questa per partire Questa fa, non fa, non fa niente Salta e poi si spacca Questa fa il fuoco direto qua E va velocissimo Parte come flash Questa fa, fa gli artigli E le vuote Adesso le facciamo spettare contro il muro Questa fa, non fa, non fa, non fa Questa fa, non fa, non fa, non fa Questa fa, non fa, non fa, non fa, non fa, non fa Questa fa, non fa, non fa, non fa, non fa, non fa Questa fa, non fa, non fa, non fa, non fa Questa fa, non fa, non fa, non fa Questa fa, non fa, non fa, non fa in un small video, in un canale, scrivetevi a mio canale, ciao Gabi, amici, un bel pollicione!